Cesaretti, oggi vertice basso del Borgo Rosso, una partita, ne parlavamo prima con Mr. De Rossi, molto strana, statica nel primo tempo, pazza, dinamica nel secondo, è arrivato tutto nei secondi 45 minuti. Sì, noi siamo una squadra convalescente, non vincevamo una partita da tre mesi e mezzo e penso si sia visto, perché nel primo tempo credo che abbiamo anche tenuto abbastanza bene il campo, ma abbiamo sbagliato tanti passaggi e quindi non abbiamo trovato il gol, rischiavamo di innervosirci, invece almeno da quel punto di vista siamo stati abbastanza tranquilli, pazienti e poi nel secondo tempo siamo riusciti a far gol. Peccato perché poi sul 2-0 invece è subentrato il discorso dell'instabilità mentale, io lo chiamo così, di questa squadra. Abbiamo riaperto la partita con una leggerezza e a quel punto è arrivata la paura. Cosa è mancata per chiudere prima la gara? Sì, Faris si è fatto male un'altra volta, nel senso speriamo non sia nulla di particolare, però abbiamo preferito non rischiare perché ha sentito un doloretto e niente, avevamo 11 persone in panchina, quindi mi sembrava giusto evitare di complicare la situazione. Cosa è mancata per chiudere prima la gara? La personalità, la serenità che in questo momento mancava e quindi appunto sul 2-0 non devi assolutamente riaprire la partita, lì devi amministrare, attendere e colpire quando si presenta l'occasione, quando si aprono gli spazi, perché chiaramente a quel punto doveva venire fuori il Miami nel tentativo di recuperare. Invece abbiamo dato loro la possibilità di tornare in partita e poi all'ultimo può succedere di tutto perché sai che un episodio può rovinare tutto. Insomma dopo tre mesi e mezzo senza vittorie a quel punto subentra un po' di paura che non dovrebbe invece subentrare perché bisogna avere personalità. Ringraziamo Cesaretti, Mister Vertice Basso, tutto fare quest'oggi per i suoi del Borgo Rosso e gli auguriamo buon proseguo di torneo. Grazie.